non so più cosa dire veramente veramente io non so più veramente cosa dire vergognatevi vi dovete solo vergognare avete avete fatto schifo dal primo secondo fino al novantesimo non c'è mai stato un tiro in porta ce n'è solo stato uno nessuno aveva avuto un'idea nessuno si è preso la briga di tirare o fare qualche gol in porta niente fate veramente veramente pena veramente mi veniva mi veniva l'angoscia vederli c'è ragazzi ma che partita abbiamo fatto ieri contro la svizzera io faccio questo video per un solo motivo perché tutte le volte che l'italia fa una brutta partita io la commento e ovviamente c'è non sempre però ovviamente questa partita non potevo non commentarla perché ragazzi abbiamo veramente superato il limite ma contro la svizzera dovevamo perdere anche contro la svizzera che io lo sapevo già che questa era un'italia che non poteva fare tantissime cose non poteva andare fino in fondo io lo sapevo già perché si vedeva vedere dei giocatori mosci poco svogliati non so neanche trovare le parole per come descriverli questi giocatori c'è perché non abbiano mai giocato a calcio se ci fossi stato io se c'ero io davo cinque gol alla svizzera io da ex calciatore da ex calciatore lo dico io che se c'ero io al posto di calafiori no calafiori non ha giocato scusatemi al posto di chiesa cristante tutti sti bidoni dell'immondizia che valgono un sacco di soldi e poi alla fine giocano come se fossero dei novantenni io se c'ero io da ex calciatore gliene facevo cinque di gol alla svizzera veramente abbiamo fatto veramente pena giocatori che non si sa nemmeno il motivo perché vestono la maglia della nazionale cioè ma ci rendiamo conto spalletti che convoca dei giocatori che non sa nemmeno lui quello che fa cioè ma anche questo europeo dovevamo farci ridere cioè dovevamo farci ridere anche questo europeo e meno male che siamo usciti contro la svizzera dovevamo farci ridere anche qui e pensare pensava pensiamo che io pensavo che se beccassimo l'inghilterra uscivamo contro l'inghilterra e per fortuna che siamo usciti prima contro la svizzera pensare che contro l'inghilterra avremmo fatto meglio no avremmo solo fatto più ridere quindi meno male che siamo usciti prima contro la svizzera che poi tutta sta svizzera ieri ha giocato bene perché loro sono esistiti nella partita noi invece no non che la svizzera fosse una squadra forte ma ieri ha dimostrato di essere forte dandoci mettendo due gol dentro quella rete dentro la rete intanto noi ci siamo fatti ridere per la centesima volta veramente un'altra abbiamo scritto un'altra pagina di vergogna del calcio italiano abbiamo fatto ci siamo fatti ridere da tutti come al solito una nazionale che pensavamo fosse rinata da quando abbiamo vinto l'europeo invece è durato per poco quella goduria lì quella goduria lì purtroppo è durata poco pensavamo fossimo potessimo arrivare in alto e io ragazzi ho già paura per i mondiali del 2026 perché dopo questa figura qua della svizzera l'italia si dovrà ricostruirla un'altra volta pensate di lasciarla così io veramente però la colpa bisogna darla solo una persona per me bisogna darla a spalletti io se fossi il ct della nazionale spalletti mi sarei già ritirato appena subito proprio quando è finita la partita perché vedere un'italia così così veramente che giocano senza un'idea senza una palla tutte palle perse vedere chiesa che perde tutto cioè vederlo vedere soltanto chiesa mi veniva veramente l'angoscia veramente poi per non parlare di cristante che è un giocatore che io l'avrei veramente tenuto a casa non so neanche perché l'hanno convocato sembrava un fenomeno anche lui cristante pensavo potesse fare grandi cose invece ha dimostrato solo di essere un un falegname un incompetente questi qua devono andare a zappare la terra o a fare i falegnami non i calciatori dopo questa confitta veramente veramente meritata ma abbiamo fatto bene ad uscire ma meno male che siamo ripeto meno male veramente ripeto meno male che siamo usciti prima contro la svizzera chissà che figuraccia avremmo fatto contro altre squadre chissà che figuraccia contro l'inghilterra avremmo fatto se fossimo andati avanti con con l'europeo se fossimo arrivati ai quarti ma secondo voi però intanto la svizzera ci ha buttato fuori meritatamente io devo fare anche complimenti ai nostri vicini di casa svizzeri perché hanno dimostrato di essere una squadra che non ci aspettavamo intanto però loro hanno giocato meglio di noi e noi invece abbiamo dimostrato agli svizzeri di essere una squadra impreparata a livello tecnico con la formazione tutta sbagliata che era da rifare e abbiamo anche dimostrato di essere una nazionale da rifare come quando abbiamo perso contro la macedonia che non ci siamo qualificati al mondiale per la seconda volta consecutiva e pensare ragazzi che se non ci qualifichiamo neanche al mondiale del 2026 è veramente una roba da dire a me viene da dire che se non ci qualifichiamo nemmeno al mondiale di calcio 2026 mi viene da dire lasciamo perdere perché se no qua non ci salta fuori più nessuno ma veramente ragazzi io 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 ieri ho visto in italia io non so nemmeno perché ma chi me l'ha fatto fare di vedere l'italia piuttosto preferivo andarmi a fare una passeggiata o andare a fare un giro con la bicicletta piuttosto che vedermi l'italia che giochi in un modo che sembrano giocatori morti giocatori che non sanno neanche dove da quale parte girarsi veramente io non so perché devo continuare a vedere un'italia così schifosa in veramente proprio inqualificabile se senza un un tiro fatto bene che l'unico che ha giocato bene per me l'unico che veramente merita di non essere insultato e donna rumma il gigione donna rumma bisogna fargli veramente gli applausi si è anche scusato lui e guarda giro certo anche le tue scuse perché tu sei stato l'unico a giocare a giocare meglio di tutti quegli altri inqualificabili giocatori che sembra proprio che non abbiano veramente mai toccato una palla ma poi soprattutto per non parlare di un altro che mi ha fatto venire nervosa è Scamacca cioè ma vogliamo parlare anche di Scamacca veramente cioè ma Gianluca ma Scamacca cioè ma Gianluca ma che diamine fai che non sai neanche tirare tiri 300 mila palle cioè tiri 300 fai 300 tiri in porta non ne azzecchi neanche mezzo poi vogliamo parlare anche di un altro che mi ha veramente fatto venire la rabbia ma proprio da veramente da mandarlo via per me è un altro che non mi è piaciuto per niente per non parlare anche di frattesi tutti dovete stare veramente dovete andare tutti a casa e adesso siamo usciti prima così vi potete anche godere il mare veramente c'è il mare così siete usciti prima e così potete già andare al mare a farvi a farvi un po' rilassare a rilassarvi un po' dopo la sconfitta clamorosa contro la Svizzera dopo l'ennesima figura DM vergognosa e clamorosa davanti a tutta l'Europa per non dire tutto il mondo contro la Svizzera e poi ce lo siamo anche meritati perché bisogna dirlo perché io dopo che ho visto la partita contro la Croazia mi stavo già dicendo dentro di me ma quest'Italia secondo me non andrà tanto lontano non farà molta strada e infatti io avevo ragione avevo perfettamente ragione quest'Italia non ha fatto neanche un gol ma manca un tiro fatto bene ma avete visto come che gol che ha fatto Vargas quello della Svizzera che ci ha veramente veramente ci ha fatto restare tutti in silenzio però intanto se lo meritano ripeto gli svizzeri gli svizzeri hanno giocato meglio di noi e meritano di essere andare di andare ai quarti perché se noi avessimo giocato bene meritavamo noi di andare a giocare ai quarti perché ripeto loro sono esistiti in quella partita e noi invece non ci siamo proprio sembrava che fossimo da un'altra parte sembrava che non fossimo sul pianeta terra cioè è una è un'Italia questa che non può andare avanti così non può fare continuare a fare queste cose è da rifondare e se noi continuiamo così io Spalletti lo toglierei subito se io fossi io Spalletti avrei già detto nell'intervista che gli hanno fatto avrei già detto guardate io mi esonero da solo mi ritiro io così non avrete dei problemi per la qualificazione dei mondiali del 2026 cioè immaginatevi se non ci qualifichiamo per i mondiali del 2026 immaginatevi che bella figura che facciamo davanti al mondo intero facciamo veramente schifo veramente cioè io quando appena la partita è finita sono veramente mi sono veramente arrabbiato dentro di me perché mi veniva da urlare ma mi sono trattenuto perché tanto cosa ci vuoi fare tanto tanto perdi il fiato tanto tanto se urli cosa fai ci cambia qualcosa no meglio tenersi la rabbia dentro di sé anzi che anzi che buttarla fuori tutta tanto cosa vuoi fare devi buttare fuori la rabbia per colpa di sti quattro falegnami che non sanno manco fare un mezzo tiro in porta vedere tutta la gente a Roma ieri quando ho visto in tv tutta la gente a Roma che stava guardando la partita in tutta Roma piena tutti con la maglia della nazionale aspettare che l'Italia facesse una bella figura alla fine ci siamo fatti di ridere da tutti ma come come è stato con la macedonia nel 2022 come è stato contro la slovacchia nel 2010 ai mondiali di sudafrica 2010 come è stato contro la svezia nei mondiali nella qualificazione dei mondiali di russia 2018 come abbiamo sempre fatto e anche oggi il 29 giugno del 2024 oggi se mai ieri perché oggi è il 30 abbiamo fatto l'ennesima figuraccia che questa sarà un'altra partita amara dove abbiamo superato tutti i limiti che potevamo superare e dove verrà scritto nel calcio italiano l'Italia perde contro la svizzera 2 a 0 chissà perché perché forse non siamo stati capaci di avere dei giocatori perché forse non siamo stati capaci di avere una squadra decente che potesse battere la svizzera perché noi siamo siamo veramente inqualificabili eravamo inqualificabili ma poi soprattutto spalletti che ha sbagliato tutto dall'inizio cioè per me la formazione è tutta da rifare cioè per non parlare di quella cosa lì quando spalletti era napoli io non me l'aspettavo nemmeno io che quando aveva vinto il campionato quando era arrivato la nazionale pensavamo fossimo salvi che potesse fare qualcosa quando quando era arrivato lui e invece no perché lo spalletti che c'era napoli era uno spalletti diverso non di certo questo che ci fa uscire agli ottavi di finale contro la svizzera io sarei avrei anche preferito uscire ai quarti così evitavamo anche una figuraccia contro la svizzera guardate ragazzi piuttosto ripeto anzi no questa cosa non ve l'ho ancora detta bene io preferivo piuttosto uscire ai gironi contro la croazia anziché fare questa figuraccia così potevamo evitare delle gran figuracce che ci rimarranno veramente veramente ci rimarranno proprio dentro nel cuore che ci sentiamo come come delle persone che vestiamo la maglia della nazionale da quando siamo nati i bambini tutti con la maglia della nazionale tutti che aspettano di cantare l'inno tutti che sventolano la bandiera e poi alla fine usciamo contro la svizzera agli ottavi di finale facendoci ridere davanti a tutta l'Europa e davanti a tutto il mondo a me non mi sembra una nazionale questa a me mi sembra soltanto una squadra di fare gli ami e la colpa per me va data al ct spalletti che per me si deve dimettere e lo dico io da ex calciatore che è una nazionale rifondata che bisogna rifarla però io se fossi stato spalletti una cosa giusta l'avrei fatta avrei chiamato orsolini perché lasciare a casa un giocatore come orsolini è un grande dispiacere è una è una grande illusione perché almeno se c'era orsolini qualcosa di più lo poteva fare oppure lasciare a casa magari un giocatore come cristante che non sappiamo il perché veste la maglia della nazionale che non lo sa nemmeno lui fra l'altro tra l'altro non lo sa nemmeno lui spalletti è arrivato è in panchina è nella panchina della nazionale italiana da otto mesi in otto mesi sembrava dovesse spaccare il mondo e invece ha dimostrato solo di essere un allenatore che allena delle persone che allena dei giocatori che prendono come stipendo 3 milioni di euro non so neanche quanto perché non è che mi metto lì a vedere lo stipendio con il telefono non è che mi metto lì con il telefono a vedere lo stipendio dei giocatori della nazionale di calcio italiana cioè che prendono come stipendio 3-4 milioni di euro non so neanche quanti adesso sparo delle cifre a caso perché non le so poi alla fine giocatori che valgono un botto di soldi e poi alla fine usciamo contro la Svizzera che i giocatori della Svizzera prendono anche di meno di noi e così abbiamo fatto anche la solita nostra figura di idioti abbiamo fatto la figura dei perdenti ripeto abbiamo fatto l'ennesima figura dei perdenti e adesso tutti a casa in silenzio e intanto i giocatori della nazionale italiana si godono il mare e il resto degli italiani tutti in silenzio tutti in silenzio e dobbiamo soffrire dentro di noi questo è lo stato d'animo degli italiani purtroppo ma volete sapere una cosa? bastava avere un giocatore del 2006 bastava avere un giocatore dell'Italia del 2006 e sarebbe stata una partita bellissima giocata a Berlino fra l'altro la capitale della Germania dove abbiamo vinto il mondiale 18 anni fa bastava avere del Piero, Cannavale, Totti, questi tre giocatori e bastava averceli bastava avere la formazione della nazionale italiana del 2006 e vedete come sarebbe stata diversa la partita se avessimo avuto i giocatori che avevamo a quei tempi solo che purtroppo i tempi sono cambiati per l'era della nazionale di calcio italiana e mi dispiace dirlo ragazzi ma un'altra cosa brutta che vedo dell'Italia è che il calcio italiano sta facendo veramente il più brutto periodo è veramente un periodo brutto della storia del calcio italiano perché abbiamo perso quattro mondiali sono andati in malora quattro mondiali siamo usciti all'europeo meritatamente con una squadra che pensavamo fosse facile battere e invece la Svizzera che ha giocato ieri sembrava che fosse il Brasile, non la Svizzera perché avessimo giocato contro il Brasile contro l'Argentina queste squadre qua contro l'Uruguay contro queste squadre qua che queste sono squadre veramente da far paura che veramente fanno paura solo a vederle queste sono squadre di cui l'Italia deve spaventarsi non della Svizzera mi sembra di rivedere la partita Italia-Slovacchia del 2010 di quando siamo usciti fuori ai gironi ancora un'altra partita quella lì è stata un'altra partita molto molto dolorosa che io ho ancora il male qua dentro mi viene ancora male adesso mi viene ancora male adesso a pensare a quella partita io tra l'altro avevo un anno e non me lo ricordo però vedendo i vecchi video mi viene male io cerco sempre di dimenticare ma è difficile dimenticare queste cose perché se questi ricordi ti rimangono dentro da tifosi italiano e da italiano come sei te li devi tenere purtroppo qualcuno cercherà di dimenticare qualcun altro no però io non riesco a dimenticarli questi brutti ricordi della Nazionale di Calcio Italiana ma poi io ragazzi veramente mi chiedo un'altra cosa ma quell'europeo quell'europeo del 2021 2020 Euro 2020 come abbiamo fatto a vincerlo perché io me lo chiedo ancora la notte io la notte mi sogno veramente d'Italia che vince l'europeo veramente ragazzi me lo chiedo ancora nella notte come si fa come abbiamo fatto a vincere l'europeo me lo chiedo tutte le notti tutte le notti me lo chiedo come ha fatto l'Italia a vincere l'europeo perché quell'europeo è stato veramente una botta di fortuna quell'europeo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per me questa è la mia opinione poi posso anche sbagliarmi e dire una cavolata però la goccia che ha fatto traboccare il vaso invece secondo me mi sbaglio però potrebbe essere secondo me è stata contro la Macedonia perché dopo che siamo usciti dalla Macedonia ho iniziato a capire lì che quella lì non era un'Italia proprio rinata perché quando avevamo vinto l'europeo tutti noi pensavamo che fosse un'Italia rinata un'Italia che potesse spaccare il mondo un'Italia che potesse vincere il mondiale un'Italia ad avere dei giocatori fenomenali invece no e invece abbiamo solo dimostrato di far ridere di fare ridere di avere delle papere in campo di avere dei giocatori che non sanno manco correre che sembrano dei novantenni ci fossero va là che se c'erano dei novantenni al posto dei giocatori dell'Italia preferivo vedere i novantenni correre anziché questi falegnami zappaterra che devono andare a zappare la terra questi zavai come si dice dalle mie parti veramente è un'Italia veramente da da brividi io non so più cosa dire ho finito le parole lascio a voi nei commenti che cosa volete dire ma cosa volete dire ormai la nazionale è questa dovremmo restare in silenzio perché io quello che ho detto l'ho detto io sono senza parole non so più come andare avanti immagino che tanti di voi la penserete come me oppure qualcun altro la penserà diversamente però io se continuiamo ad andare avanti così non ci saltiamo più fuori non ci saltiamo più fuori della serie io non ce la posso più fare della serie io voglio veramente vedere un'Italia bella cioè non bella un'Italia bella era quella dell'82 quella era un'Italia bella un'Italia bella era quella del 2006 della serie io non riesco più a vedere non riesco più a trovare i vecchi ricordi dell'Italia della serie io sto solo vedendo brutti ricordi della nazionale di calcio italiana e volete sapere la mia? vi dico questo e poi chiudo il video perché non so più cosa dire io siccome l'Italia è stata eliminata meritatamente ripeto meritatamente tiferò per la Georgia di Kvarachkega perché la Georgia è una squadra che gioca molto meglio di noi sicuramente e gioca anche a un livello tattico migliore e hanno anche una formazione che sembra che sembra che sia una squadra di scarsi invece hanno dimostrato di vincere molto bene contro il Portogallo quando gli hanno fatto quei due gol quelle due pere contro il Portogallo e se vincere alla Georgia l'europeo cosa che però sarà impossibile però tutto nel calcio può essere possibile io sarò anche contento però mi immagino sia impossibile però ripeto tutto può succedere nel calcio perché adesso ci toccherà fare il tifo per qualcun altro e non per l'Italia perché il calcio è così ragazzi il calcio purtroppo è così il calcio è così se tu non ci metti la grinta non ci metti non corri non tieni la palla tra i piedi questo non si chiama calcio questa si chiama indecenza a casa mia si chiama indecenza indecenza scusatemi cioè questo non è calcio il calcio è tutta un'altra cosa da quello che abbiamo visto ieri sera perché quello che abbiamo visto ieri sera lo volete chiamare calcio io non lo chiamo calcio io lo chiamo gioco per falegnami l'Italia che gioca che non gioca come una vera nazionale di calcio gioca come una nazionale di falegnami o di zappaterra e niente ragazzi non so più cosa dire e adesso dovremmo dovremmo rimanere tutti a casa in silenzio nelle nostre case a non tifare più l'Italia per un altro po' di tempo poi dopo si riprenderà perché a settembre cominceranno le qualificazioni dei mondiali 2026 vedremo cosa riusciremo a fare se Spalletti ce lo continueremo a portare fino altri due anni oppure se lo cambieremo come allenatore cosa ci volete fare? ormai il danno è fatto ciao ragazzi grazie grazie grazie